Ciao a tutti, in questo video mi è venuto in mente di farvi vedere una tecnica di ricalco per andare a tracciare delle immagini. E' una tecnica che uso già da qualche tempo e cerco di semplificare al possibile quelle immagini per trasformarle in tracciato che difficilmente riusciamo a farlo con la funzione di Lightburn, perché spesso hanno poco contrasto per cui i confini fra un colore e l'altro, fra una forma e l'altra, non sono ben delineati, per cui io vado a fare un ricalco all'immagine. Ma partiamo subito con il video. Molto probabilmente ci saranno alcuni momenti in cui per non farlo diventare troppo lungo accelererò le immagini del video appunto per accorciare un po' i tempi. Comunque cercherò di spiegarvi le fasi più interessanti della cosa. Quello che vediamo sul piano di lavoro di Lightburn non è altro che una foto di un ciondolo, così come l'ho scaricata da internet, non ho fatto nulla, quindi non sono passato attraverso Photoshop o altri programmi del genere, l'ho proprio presa e messa lì. Come vedete il contrasto è veramente debole e anche i contorni non sono ben definiti, quindi questa è una situazione abbastanza difficile. Infatti se io vado a fare traccia immagine vi faccio vedere che nonostante io cerchi di andare a prendere tutto il possibile mi verrà sempre un qualcosa di come minimo incasinato. Passatevi il termine, ma verrà una cosa veramente molto molto brutta. Vi faccio vedere, questa è già una delle migliori, ma vedete che abbiamo, se vado a vedere, abbiamo già tanti frastagliamenti e così via. Sono cose che vedo spesso anche in qualcuno che prende delle foto raster, le vuole lavorare con laser, fa un trace con questa funzione, però non è colpa di Lightburn, è colpa della fotografia che non è quella idonea. Andiamo a vedere come faccio per fare, per tirar fuori una sagoma non dico identica, ma molto 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 vicina a questa fotografia con il ricalco. ritorno alla situazione pregressa per cui vado a indietro con l'annullare il tutto e andiamo ad iniziare a fare la cosa. Mi aiuterò con la tastiera di LBK che è quel tasterino che vedete qui di fianco sul mio monitor dove vi farò vedere da lì tutti i comandi che andrò ad impartire. Le impartirò la maggior parte di questi tramite il tastierino. Consiglio per questo tipo di lavoro è di ingrandire il più possibile le immagini e la seconda cosa che vado a fare è quella di bloccarmi l'immagine sul piano di lavoro in modo che non mi si sposti da quello che devo poi fare, dovrò poi fare. Quindi vado con la vado a selezionare, pulsante destro del mouse e blocca le forme selezionate, quindi non ho modo di spostarla. Questo è molto importante. Poi vado a vedere quali sono le forme che devo posso andare a utilizzare perché assomigliano già a delle forme predisposte o preimpostate di lightboard. Per esempio vediamo che qui c'è un cerchio, questo all'interno che fa il ricciolo della coda e poi c'è un cerchio che è praticamente quasi un offset. Quindi io cosa vado a fare? Io vado a selezionare lo strumento cerchio da lightboard, mi vado a fare un bel cerchio circa delle dimensioni che voglio scrivere sopra questo, sono un pochettino lontano, lo ingrandisco leggermente così, lo metto in questo modo, ci siamo quasi, forse lo ripicciolisco un attimino è meglio, ne lo vado a centrare e questa è la prima. Poi selezionando, sempre tenendo selezionato questo cerchietto, vado a fare un cerchietto con l'offset, quindi con lo strumento offset che si è aperto adesso, vedete circa 5, facciamo un 5,20 per essere un pochino più precisi e abbiamo già fatto questo. Dopodiché vado a vedere cosa posso fare con gli altri elementi, qui posso utilizzare sempre il cerchio, quindi vado a riselezionare il cerchio, vado a fare un cerchio più o meno delle dimensioni, anzi un'ellisse in questo caso, delle dimensioni dell'occhio, lo vado a selezionare, sposto leggermente il tutto in questo modo, vedete? Allora più o meno cerco di dargli una forma che assomigli, non verrà mai identica, ma che assomigli un pochettino a quello esistente, lo metto qua così, ci siamo, poi li andremo a rifinire dopo. Poi vado a fare, non lo faccio doppio perché posso, poi lo duplicherò, lo porto dall'altra parte quando l'ho finito. Vado a fare questo, la parte interna dell'orecchio e lo farò con un triangolo, quindi andrò a selezionare lo strumento matita e non farò altro che prendere un, non c'è lo strumento triangolo, lo faccio io un triangolo, anzi faccio un triangolo però, anzi faccio un quadrilatero in questo modo, ok anche questo non lo vado a fare nell'altro orecchio perché poi duplicherò e qui la forma del naso, vedete che sembrano quasi tre cerchi, cerchi quindi io vado a riselezionare il cerchio e faccio, faccio prima un cerchio in questo modo, lo seleziono e me lo porto qui in questo modo qua, ok, poi lo vado a duplicare, me lo vado a portare qui, poi lo vado a duplicare e me lo vado a portare qua, infatti un po' troppo piccoli li seleziono tutti e tre e li allargo leggermente in questo modo, in questo modo, ok, ecco vedete si assomigliano un pochettino, questo non combacia con gli altri, per cui lo vado a selezionare, faccio in questo modo qua, tanto poi me ne rigiro un attimino come voglio, non è un grosso problema, anzi questo me lo faccio anche leggermente più ampio, li seleziono tutti e tre, a questo punto con le booleane, ho sbagliato a calcare il tasto sul tastierino, non me ne prende, perché non me ne prende, perché mi fa solamente la, logicamente mi fa solamente il salda, ok, e questo l'abbiamo fatto anche questo, andiamo a posizionare in questo modo, vedete che si assomiglia abbastanza, poi li vado a ritoccare tutti, ve lo faccio vedere, poi ci rimane da fare il cuore, questo cuore, questa parte qui interna e poi questo tutto il segmento intorno, cosa vado a fare? Per fare questo faccio semplicemente con lo strumento matita, passo da qua, vado circa al centro di questo, qui faccio un piccolo spigolino, così, questo lo metto qua e questo me lo vado a chiudere in questo modo, stessa cosa andrò a fare con il cuore, parto di qua, parto qua, parto qui, vedete faccio delle, proprio delle righe, proprio molto molto strette, cercando di andare a prendere più o meno i punti salienti, ma anche quello sarà oggetto poi di una nuova correzione e questo lo mettiamo così. Andiamo a fare la parte finale, questa è un pochino più complicata, faccio così sempre con lo strumento matita, strumento matita, qui non mi preoccupo molto di andare sulle cose, perché poi lo andrò a correggere tutto con i nodi, ecco si tratta di fare solo questo, qui posso andarci anche abbastanza largo, non mi interessa, qui posso fare così, qui posso fare così, vedete vado abbastanza lontano dalle righe perché poi le andrò ad aggiustare con i nodi, poi basta prenderci un po' di mano, io ho già un po' che utilizzo questo sistema, mi viene abbastanza bene, poi vedrete il risultato finale se vi piacerà, ma non è molto complicato riuscire ad ottenere qualcosa, non dico di identico all'originale, ma quantomeno molto vicino all'originale. Si tratta di fare pochi punti, sono qua, sono qua e vado a finire in, qui però gli do un puntino anche in questo modo, vado a finire in corrispondenza del cerchio e ho finito la prima parte. Adesso viene il bello perché dobbiamo andare a sistemare un po' tutto questa figura così spezzettata che dire come fai a farlo venire, lo vediamo perché dove non ho messo dei nodi ce li posso inserire, dove ne ho messi troppi li posso levare, vedete sono quasi tutte rette però le posso incurvare con lo strumento edita nodi che dovete conoscerlo, se lo conoscete e se conoscete a utilizzare i nodi siete in grado di fare tutto quello che volete. Allora iniziamo dal contorno esterno, contorno esterno allora io vado a aumentarmi leggermente le dimensioni del disegno, come fatto in questo caso, poi vado con l'editazione di nodi, vedete mi si apre in automatico sul tastierino le funzioni dell'editazione dei nodi e comincio andare a lavorare su questi segmenti, mi posiziono più o meno al centro di questa retta, devo selezionare, me lo porto su e vedete ho già fatto questa parte, mi metto qui al centro di questa retta, ho già fatto questa parte, vado qua, ecco quando vedete queste maniglie, si chiamano maniglie tecnicamente, dei nodi fatte in questo modo, che mentre la curva è in questo caso che va da sinistra a destra e loro vanno al contrario, si creerebbe una discontinuità del disegno per cui si prendono le maniglie e si cerca di metterle o dritte o nello stesso verso della curva, mi sposto un attimino sopra il lavoro, poi questo lo vado a mettere qua, lo stesso vedete anche questo è venuto in questo modo, non mi piace, i casi sono due, posso anche prendere questo e spostarlo un po' in giù, però mi piace di più che siano il più possibile rette, anche questo, in questo caso me lo sposto, però ecco, quando abbiamo questa situazione, su questo nodo io vado a fare una S di smussa, vedete, con la S ma cambiato il colore e la forma di quel nodo, perché da quadrato me l'ha fatto diventare circolare, perché è diventato un nodo circolare, anche qui potrei fare in questo modo, però prima io vado a muovere questo, questo è lo stesso discorso di prima, le maniglie che non mi piacciono, quindi io vado a spostare, vedete, io posso spostare il nodo per farlo andare il più vicino possibile, aderente al disegno originale, continuiamo con questo, vedete che mi avvicino molto al vero, diciamo, disegno del gattino, ecco, anche qui io posso spostarmelo così, qui vedete che posso spostarmi questo nodo qua, posso inserire con la ID insert un nodo in questo punto, che mi andrò a spostare così, in modo poi da, vedete, quando io ho inserito un nodo, lo sposto spostare come voglio e riesco a modellare un pochettino il tutto, adesso l'ho perso, ci vuole un po' di pazienza, ma si fa tutto, qui ci fa, faccio una S di smussa su questo nodo, che non me lo prende, ecco un po' troppo, quindi me lo vado a mettere in questo modo, in modo da seguire il contorno, ok? Questo l'ho fatto troppo giù, quindi questo me lo prende, me lo porta un pochino più in su, mi posiziono qua, sposto e cerco di rifare questa curva, ok? Questo lo sposto leggermente più in basso, questo nodo me lo porto un pochino più su e faccio questo movimento, vedete che riesco a riprendere un po' la forma del gattino. Ci vuole un po' di pazienza, ma non è poi così difficile. Ecco, brutto è quando, come in questo caso, siamo in vicino a dove c'è il contrasto forte della, io intanto ho messo una S qui, un S qua, il contrasto forte del disegno e magari ci può ostacolare un pochettino. Qua vado a dare una curvatura leggera, questo nodo me lo porto un pochino più in su, do una curvatura in questo modo, questo me lo vado avvicinare così, questo ci do una S di smussa, me lo avvicino e questa parte l'ho fatta, adesso non mi resta che fare. Questo che me lo porto qua, questo me lo porto un pochino più in giù, vedete che è abbastanza semplice, con spostamento anche dei nodi, andare a portare, qui ci faccio una S di smussa e me lo avvicino un pochettino da curva al disegno. Ecco, qui c'è questo angolo che, come vedete, mi dà un po' fastidio, perché c'è questo che devo dargli una S per farlo tondo, perché altrimenti mi sballa tutto. Allora, abbiamo fatto la parte esterna, adesso con lo stesso sistema, ma accelererò il video, andrò a fare il cuore e questa cosa qua. Quindi adesso parto accelerando il video. Ecco, come avete visto l'ho fatto abbastanza velocemente, però ho aggiunto alcuni punti nei punti, alcuni punti nei punti dove mi mancava un qualcosa per fare una forma leggermente migliore, ho fatto abbastanza presto, sono cose che solitamente per fare una forma così non ci impiego più di 10-15 minuti, ora ci stiamo mettendo di più perché sto spiegandovi, quindi sto andando molto più piano di quello che faccio di solito. Comunque, come avete visto, non è molto complicato, poi vedrete il risultato finale. Vado a fare gli occhi, vado a fare le orecchie e vado a rifinire il naso. Faccio tutto aumentando la velocità del video. Una cosa da tenere presente è che le figure che ho già fatto con le forme tipo il cerchio, tipo gli ellissi eccetera eccetera, vanno modificate in tracciati per poterli lavorare con i nudi. Se li voglio modificare, se li voglio lasciare come sono, no. Ma per esempio l'occhio lo devo andare a trasformare in tracciato, quindi converto in percorso e poi li posso modificare. Andiamo a fare la modifica degli occhi. Avete visto, ho modificato un occhio, l'ho duplicato, l'ho ribaltato e l'ho messo dall'altra parte. Adesso naso e orecchie. Ecco questo è, l'ho fatto così a grandi linee per cercare di farlo il più velocemente possibile e farvi vedere un attimo come funziona. Adesso andiamo a, possiamo andare a sbloccare l'immagine del gattino sottostante. Quindi io ripicciolisco un attimo l'immagine, poi vado a selezionare l'immagine, la vado a sbloccare, vado a togliere l'immagine dal, diciamo, da sotto a tutti i segmenti che ho fatto e come vedete diciamo che il risultato non è ancora perfetto, perché dobbiamo fare ancora due cosine qua, ma ci siamo quasi. Anche questo orecchietto magari lo sposterei un pochettino, però ecco vedete che abbiamo ricalcato più o meno tutto. È di grandi dimensioni, per cui anche qualche piccola imperfezione che ci può essere, se andiamo a rimpicciolire il tutto, io seleziono tutto e rimpicciolisco, saranno molto molto meno evidenti. E adesso vi farò vedere appunto come, come verrà poi il risultato finale, perché lo lavorerò su uno specchiato di Great Carve e vi faccio vedere questo ciondolino come viene. Ecco quello che vi faccio vedere adesso è l'oggetto finito, spero si veda bene, comunque ve lo metto anche in foto, faccio una foto, ve lo metto, l'ho fatto due volte, quindi praticamente ho specchiato questo e l'ho inciso prima così in un senso poi nell'altro, li ho incollati perché l'ho specchiato Great Carve da una parte è nero, da una parte è dorato, argentato eccetera eccetera e questo è l'oggetto finito e dove possiamo utilizzarlo per un ciondolino, per fare degli orecchini, a seconda delle dimensioni, un po' quello che volete. Questo materiale è veramente bello, ve lo consiglio a tutti e in descrizione vi metto i codici sconto. Saluti a tutti, se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel like, poi iscrivetevi al canale e così vedrete tutte le novità perché durante l'estate, quest'estate, i video saranno un pochino più rari, non avranno un'uscita precisa perché mi godo un po' di ferie anch'io. Ciao a tutti, iscrivetevi e campanellina, ciao alla prossima, al prossimo video.